Consigliere un altro numero di scegliere Guardate, allora il nostro massimo di attenzione mi invito a fare un attimo di attenzione Allora no, a me mi fa piacere che non è nevecante, l'amico mette vibrato, sta dentro e va fino a un attimo di attenzione La città deve vedere quello che sta succedendo oggi in questi omogeni occorrenti Oggi, caro sindaco, nelle tue ripressioni, se tu una notte tu ti chiedi lo sio con gli altri Quando vado a vedere, dicono, guardate, quel sindaco qua, a me mi sapeva, perché mi sapeva Cioè, alla fine, tu hai fatto la serie di testi non hai visto la serie di testi, tu hai fatto la serie di testi Tu hai fatto la serie di testi, tu hai fatto la serie di testi, di un po' con la casi caro cazzo, delle alle difese Ma tu oggi satiab assistente, ha una forza dura, ha l'intente della maggioranza Oggi c'è una maggioranza, oggi c'era una maggioranza spaccata a casa, che adesso, attraverso questo capillo, che gli amici, i banchi della maggioranza vogliono trovare, forse non si dovevano fare, forse si dovevano fare, si dovevano fare, è un atto, è un adelifer, una adelifer, cioè stanno scappando da così, perché adesso io non voglio valutare nulla, la verità è che oggi il sindaco deve prendere atto e deve decidere che questa giunta, che tu ci hai nominato come una giunta politica, allora che questa giunta, che ci si è nominato come una giunta politica di instabilità, ha perso la sua condizione e il suo votamento, perché il Partito Democratico stamattina ha spingiato i suoi attenzioni, ma guardate, ma se non prendiamo questo, ma di che diciamo una cosa, questa mattina è da 5-6 ore, e tu sindaco, cioè hai l'attività di tutta la donazione che era di me, basta, è finito, non è in forzio di scuola, lo hanno terminato in tutti i periodi di grattaccio che aveva il presidente che si ricorda quando ha scelto perchè il Presidente è venuto in roma, è venuto in roma, ma la nuova proietà si sta potendo fare, si sta potendo ascoltare, iniziamo con l'opinione un problema di regolamenta di regolamentare il problema sarà, il problema sarà la creazione del movimento, il dato è politico sarà e il dato è politico, grazie. Allora, non lo consigliamo? Non so, c'era il governo di grattaccio che si è stato, va bene, non è un problema